Buonasera, buona domenica dalla redazione di Icaro Tg e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale. Partiamo dalla cronaca per parlare di un episodio che ha visto protagonista un uomo che ha messo le mani addosso alla compagna e poi ha cercato anche di colpire un agente. Si tratta di un 32enne marocchino, è successo ieri sera alle 19.25 sul lungomare di Vittorio a Rimini dove un passante ha segnalato un'accesa lite tra un uomo e una donna e lui appunto a un certo punto le ha messo le mani addosso. Sul posto gli agenti hanno trovato la donna, una 34enne marocchina che ha raccontato di avere litigato col compagno. Compagno che si è allontanato all'arrivo della polizia mentre gli agenti raccoglievano appunto le dichiarazioni della donna è comparso l'uomo, 32enne appunto marocchino, barcollante per lo stato di alterazione da alcol oppure droghe. Alla luce del suo atteggiamento subito aggressivo è stato fatto accomodare in un'auto della polizia e ha cominciato a colpire il veicolo. Un agente si è poi avvicinato per completare il verbale e il 32enne lo ha colpito con un pugno dal finestrino abbassato per il caldo, colpendolo però fortunatamente in modo solo parziale e neanche in questura l'uomo si è calmato, si è spogliato, poi ha urinato per terra nella cella e ha tentato anche atti autolesionistici. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio sempre a pubblico ufficiale. Domani per lui ci sarà la direttissima. Parliamo dell'altro argomento che tiene banco in questi giorni, ovvero il meteo. Anche domani il caldo si farà sentire con massime intorno ai 33-34 gradi nel riminese. Andiamo a vedere, oltre alle previsioni, ovvero quello che importa in questi giorni è la mappa del disagio bioclimatico di Arpa, le previsioni del rischio calore. Oggi per la provincia di Rimini appunto c'era una situazione di disagio medio, quello arancione sulla pianura, nessun disagio in collina. Domani la zona del disagio arancione, lo vediamo, si estenderà per molte province, anche dell'Emilia. Per la provincia di Rimini disagio sulla fascia della pianura, disagio debole invece in collina. Martedì un parziale miglioramento perché come vediamo appunto ci sarà un debole disagio sulla fascia costiera, ma nessun disagio nell'entroterra e in collina. Per quanto riguarda invece nello specifico le previsioni meteo, oggi vediamo anche per la serata cielo sereno e temperature che oggi hanno avuto una massima di 31 gradi. Domani cielo sereno poco nuvoloso, temperatura massima di 33 gradi, siamo di 4 gradi sopra le medie stagionali. Per quanto riguarda dopo domani la tendenza per martedì, qualche nuvola in più ma ancora caldo, sempre 33 gradi la massima. Ma c'è anche poi la possibilità per mercoledì di temperature in diminuzione, temperature che appunto dovrebbero calare tra mercoledì e giovedì per poi tornare ad alzarsi nel fine settimana. Vedremo poi nei prossimi giorni di aggiornare con più precisione come si evolverà il meteo. La polemica che ha investito ancora una volta il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, anche oggi arrivano ferme e prese di posizione contro l'ultima iniziativa del sindaco di Pennabilli che nella convocazione del Consiglio Comunale del prossimo martedì ha inserito un ordine del giorno dal titolo Disapprovazione dell'accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel comune di Pennabilli. Che Giannini non fosse favorevole all'ingresso di profughi nel suo comune già si sapeva. Qualche giorno fa c'era stata anche un'ordinanza sempre contestata che metteva molti paletti alle cooperative o comunque a chi dava disponibilità di accoglienza ai profughi nel suo comune. Ora questo ordine del giorno che ha suscitato polemiche in particolare per l'uso del termine raffa in questo documento ufficiale. Ieri c'era stata la ferma condanna del sindaco di Rimini nonché presidente della provincia, Jamilsa de Golvad e anche del PD della Val Marecchia. Oggi arriva l'intervento del senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, che dice che la nostra Costituzione si basa sui principi di democrazia, libertà, eguaglianza e pluralismo. Non sembrano i principi che guidano il sindaco di Pennabilli e chiede Croatti l'intervento urgente del prefetto. Non si tratta di semplici provocazioni o di uscite per attirare l'attenzione. Serve responsabilità e rispetto per un ruolo importante come quello di rappresentare una comunità di cittadini interviene anche l'ANPI provinciale di Rimini per voce di Anna Rita Tonini che è presidente del comitato provinciale. A questo punto dice dopo aver fermamente condannato le nuove affermazioni del sindaco Guerra, riteniamo che di fronte alle sue del sindaco Scusate e Giannini, a questo punto riteniamo che di fronte alle sue aberranti quanto puerili esternazioni, prima ancora che la condanna, serva a contrapporre indifferenza e silenzio. Il sospetto è che commentando ulteriormente uscite così palesemente fuori dalla grazia di Dio, si dia fin troppa visibilità a un individuo che continua a propagandare idee inaccettabili sul piano umano come su quello politico, dannose per qualunque comunità. E c'è stata anche una mobilitazione annunciata sempre per martedì sera davanti alla sala del Consiglio Comunale di Pennabilli. Torniamo a parlare di cronaca. Teneva ad occhio le coppiette appartate in spiaggia in piena notte per mirare ai loro effetti personali, ma a sua volta i carabinieri in borghese impegnati nei controlli a Marina Centro tenevano d'occhio lui. Un 22enne tunisino residente a Palermo, ma in questo periodo di stanze in un albergo riminese, ha approfittato del bagno notturno di una coppia per furgare nella borsetta di lei, cercando di estrarre il portafogli, ma è stato subito bloccato dai militari. Vistosi scoperto, ha lasciato cadere la borsa sulla sabbia, ma non è servito a niente. È stato arrestato per furto aggravato. È successo la scorsa notte appunto intorno alle 3.30 sulla spiaggia del lungomare Tintori per il tunisino. Domani ci sarà la direttissima. Parliamo di Gradara, andiamo a sconfinare nelle Marche, ma per un evento che era atteso da diversi anni, soprattutto per lo stop causato dalla pandemia. Ieri sera Gradara è tornata a compiere il suo viaggio indietro nel tempo fino al 1446. L'assedio al Castello ha visto protagonista un esercito di oltre 200 rievocatori tra armigeri e cavalieri in armatura. L'assedio che ripropone appunto lo scontro del 1446 tra gli eserciti degli Sforza e dei Montefeltro contro Gradara. E c'è stato il consueto finale pirotecnico che ha affascinato il pubblico. Lo vediamo. Avviene in questa serata la decima edizione di Assedio al Castello, ecco, nato nel 2005 con un grande entusiasmo. Ci racconta di questa nascita? Un grande uomo, oltre che un grande sindaco che Gianfranco Micucci, che tutti ricordiamo, abbiamo qua nel cuore. E questo è frutto anche di quei due anni, ai miei troppo pochi, che ha passato qua con noi come sindaco di Gradara. Nasce nel 2005, il sindaco Franco Micucci mi manda all'epoca spedizione a Carcassonne in Francia per vedere come facevano i fuochi nel castello bellissimo di Carcassonne. Bellissimo spettacolo, ma senza luci, senza musica. Quindi noi abbiamo portato a casa quell'idea di grande spettacolo, di Sonne Lumière, aggiungendo all'inizialmente in diretta musica e luce delle mura e poi un passo alla volta tutto questo qua. Quindi un accampamento, 250 figuranti, cavalli, bombarde per evocare anche didascallicamente, visivamente, la battaglia nel 1446. E poi un gran finale di fuochi perché è sempre bello, siamo sempre vicino alla riviera e quindi i fuochi d'artivisione fanno sempre piacere. Gradara è un luogo veramente magico, straordinario, che credo al di là delle presenze debba essere sempre di più promosso perché già hanno dei risultati, dei numeri molto importanti, ma può essere veramente un grande attrattore per la riviera Adriatica. E' come il nostro marchio nuovo, Let's Market, che parla in maniera chiara, diretta, inglese, ma comunque se vedi si legge le marche, quindi è un po' una sintesi, no? Cioè volevamo dare un po' un pugno nello stomaco, ma l'abbiamo data in maniera carina, in maniera... proprio perché le marche si devono aprire ai mercati internazionali. Andiamo a Viserba dove c'è una denuncia sul degrado del giardino davanti alla stazione il parco Pirzio Biroli Luigi in Viale Curiel. A lamentare la situazione di degrado e abbandono è in particolare Francesca Gorini di Fratelli d'Italia di Rimini, che ha documentato appunto la situazione del parco a terrassi, coperte, bottiglie di alcolici abbandonate, panchine rotte, rifiuti sparsi, escrementi umani e perfino un barbecue con tutto il necessario per l'uso, che rendono impossibile la fruizione dell'area ai cittadini, oltre a rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico e per la salute pubblica. Segnalazioni sono arrivate anche riguardo a una famiglia che ogni estate viene vista soggiornare, tra virgolette, per un periodo di vacanza sempre in questo parco, utilizzando la fontana pubblica per l'igiene personale e i cespugli come toilette. E quindi da Francesca Gorini una sollecitazione a un rapido intervento per riqualificare l'area destinata a parco pubblico, nonché un costante monitoraggio e controllo della zona affinché non prevalga la condizione di abbandono. A Riccione, invece, all'indomani dell'ultimo saluto ad Attilio Cenni, l'imprenditore scomparso nei giorni scorsi e figlio di Biagio Cenni, ex sindaco di Riccione, arriva da Edmo Vandi, memoria storica della Perla Verde, la proposta di intitolare a padre e figlio il Parco della Resistenza. Proprio Biagio Cenni, ricorda Edmo Vandi, fu il creatore del Parco della Resistenza dopo una visita insieme a Edmo Vandi all'Englishken Garten di Monaco di Baviera e c'era anche appunto da parte di Attilio il sogno di dedicare un segno di riconoscenza da parte della città al padre. Questo potrebbe avvenire appunto intitolando il Parco della Resistenza. Parco Biagio e Attilio Cenni, confido nella sensibilità dei riccionesi che nella mia quasi secolare esperienza non è mai venuta meno, conclude Edmo Vandi. Torniamo a parlare dei campionati giovanili di vela che si sono svolti nei giorni scorsi nelle acque di Rimini organizzati dal club nautico. C'è anche una bella storia di solidarietà dietro l'oro dell'undicenne ucraino Sviatoslav Jasnolobov, portacolori appunto del club nautico di Rimini che durante la cerimonia di premiazione ha fatto risuonare in piazzale Boscovici le note dell'ino del suo paese martoriato dalla guerra. Vediamo. Il velista proviene dall'Ucraina in suo nome, Sviatoslav Jasnolobov! Sono molto felice, le gare erano molto difficili, c'erano un sacco di barche ed era molto interessante. Sviatoslav ce l'ha fatta, il velista ucraino portacolori del club nautico Rimini e campione del mondo Open Skiff Under 12. L'undicenne biancorosso si è reso protagonista di una performance strepitosa nelle acque di casa, prendendo subito la testa del raggruppamento per tenerla fino alla fine. Una storia di sport e solidarietà per Sviatoslav e la sua famiglia, accolti dopo lo scoppio della guerra dal club nautico Rimini. Il campione del mondo Under 12 è un ragazzino ucraino che l'anno scorso abbiamo adottato con la sua famiglia qui a Clebrautico e questa cosa mi dà un'immenso soddisfazione. Noi siamo venuti qua un po' più di un anno fa perché è guerra e il mio figlio è cresciuto qua a Rimini come velista e mi piace questo. Mi piace perché noi non perdiamo tempo, lui cresce, qui abbiamo belle condizioni, il bel circolo che aiuta, aiuta noi tanto e questa è una cosa importante per noi. Vorrei ringraziarli tantissimo. Anche Dimitro Yesnolobov è stato campione del mondo ma di un'altra specialità. Io ho vinto il mondiale con Snowkite, è un'altra cosa, ma anche lo stesso è bella. Tra le due emozioni prevale però quella di essere padre di un campione del mondo. Sì, mio figlio è molto più importante. Sì, io adesso sono felicissimo. I complimenti a Sviatoslav. Siamo in conclusione. Vi ricordo che da domani riprende la nostra programmazione quotidiana con l'informazione alle 7.30 alla rassegna stampa locale, alle 8.30 al Tg del mattino, dalle 9 alle 10 l'appuntamento con tempo reale estate e poi i nostri telegiornali della sera sempre alle 19.15 e 20.15. Vi ricordo anche il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione. Ancora l'augurio di una buona domenica. Grazie a tutti.